Buongiorno a tutti, sono Maddalena Ortis e rappresento l'ente del turismo di Dubai. Sono molto felice di essere qui con Volo Online, che è un nostro partner importantissimo nella promozione della destinazione, che ci aiuta a far conoscere tutte le bellezze della città e tutte le novità che offre. Dubai è una città in continua evoluzione, che adatta a tutti i tipi di turisti. Ci sono tantissime novità in arrivo anche grazie a Expo Dubai, che si terrà l'anno prossimo e aprirà le porte a ottobre 2020. Quindi sta per iniziare il countdown verso questo incredibile evento. La città si sta preparando con tantissime novità, nuovissime attrazioni. Pensate che accoglierà, le previsioni sono che accoglierà 25 milioni di turisti, quindi insomma c'è davvero un grandissimo lavoro. Ci sono tantissimi nuovi quartieri che fino all'anno scorso non esistevano, attrazioni per famiglie, per coppie, per amici che vogliono divertirsi in compagnia. Insomma, non ci resta che visitare questa città incredibile e vivere la sua enorme energia.